Ciao fioralline fioralline per oggi facciamo un video spesa todis però prima vi faccio vedere che porto la magliettina con la bocca e i nuovi pantaloni di shape e poi vi faccio vedere come ci ho legato i capelli una cotina due cotine tre cotine perché non mi si leggono i capelli ok simmo faccio vedere la spesa dopo la sigla ecco sono ritornata la prima cosa vi faccio vedere quello sta mangiando nicole se la rubo questo qua io ho comprato cioccolata qui uno per rachele uno per nicole a rachele l'ha comprato ma mi sono sbagliata poi siamo andati a vedere se trovavamo bottiglia di vetro l'ha trovata un guerrino che è molto frizzante questa qui di depi sono sei bottiglie di vetro vetro io l'ho trovata di plastica però mo la prossima volta vado da comprato guerrino e me vado a comprare una cosa di sei bottiglie una cesta una cesta come si dice e di vetro come la prima volta l'ho comprato ho pagato 5 euro per la bottiglia di vetro e più 5 euro e 50 le bottiglie di acqua e sono l'ho comprato 6 euro per la prima faccio vedere tanto faccio il video poi ho comprato questo qua tutto plastica e non c'è niente ecco c'è lo scottrino che dopo mi farò vedere i todis beh questo qui è di rachele nicole voleva che ve lo faccia vedere per questo di rachele che guarda il suo terra che poi ho comprato comunque voglio assaggiare l'acqua di verino per tanto verino non la beve le bottiglie d'acqua perché beve poco so io che bevo un botto mi sono comprata queste merendine perché la mattina me è bello una tazzina di caffè freddo e mi maggio una merendina questa qua e tra trecine che se è buono se ci fa il tuo colazzo della mattina poi poi c'è due scottrini la colazza era tuo bivante frutta fresca a una volta di guadino overti dei latte rivieri e tè del alienato vabbè non c'è questa ah ecco tè del alienato questo qua poi ci stanno lo vettini piccoli dentro il frigorifero e questo lo ha comprato di guerrino 5 euro e 29 poi perché c'è altro scontrini poi abbiamo comprato questo qua che c'è il succo rosa visto oggi è fissato il rosa mi nipote ha visto la pasta rosa al negozio vero il frutto rosa tutto rosa poi questo qua compro 3 euro circa 1 costa che so il ravioli di carni due confezioni due confezioni e basta a lo vettimo vado a prendere faccio vedere va bene adesso vi faccio vedere lo scontrino e poi vediamo il video 9 euro e 38 vediamo se si vede va bene 9 euro e 38 ok io adesso vi posso lasciare perché finito questo video ciao al prossimo video mega bacio ciao